Musica Amici, c'è una giornata domenicale caratterizzata ancora da temperature oltre la media del periodo da una condizione di stampo anticiclonico ben evidenziata dalla colorazione arancione che dall'Atlantico si arriva a estendersi fino alla Turchia tutta l'Europa centro-meridionale è protetta da una condizione di stampo quasi estivo anche a 1500 metri di altezza vediamo le correnti fredde colorate in verde relegate sul nord Europa e tutta l'Europa centro-meridionale in una condizione di stampo estivo il tutto significherà stabilità meteorologica, assenza di fenomeni significativi ma temperature oltre la media del periodo, assenza di ventilazione visto appunto l'assenza di perturbazioni e conciò il problema di foschia densa e nebbia in aree scarsamente ventilate a risentire di questo problema in particolare tutta l'area della pianura padana che vede diciamo da queste condizioni prevalere il problema della nebbia in maniera continuativa ormai da qualche giornata centro d'Italia in un contesto termico assai gradevole con temperature oltre 20 gradi, foschia e nebbia nelle aree di Santi dal Mare in ore serali e notturne in prima mattinata sul meridione d'Italia sarà una giornata domenicale caratterizzata da cieli prevalentemente coperti in particolare sul settore tirrenico, nuvolosità compatta di tipo cumuliforme abbastanza estesa non sono da escludere in aree diciamo interne nell'entrotera ridosso dei rilievi anche dei brevi fenomeni nel corso della prima parte della giornata domenicale parlo delle prime ore della prima metà di giornata sul versante tirrenico sul settore occidentale la provincia di Cosenza, di Catanzarese, del Vibonese e Brevi Piovaschi ma che riguarderanno soltanto la prima parte della giornata domenicale a seguire un pomeriggio con ampie aperture ma in un contesto di cielo sempre nuvoloso a seguire una giornata di lunedì che verrà e prevalere fasi sorreggiate che si estenderanno dal settore tirrenico alla fascia ionica in un contesto che proseguirà con temperature oltre la media del periodo e con assenza di fenomeni significativi almeno per quanto riguarda il meridione d'Italia che si estenderà tutta l'intera nuova settimana rimarranno condizioni di stampa anticiclonica io credo ancora per diversi giorni su tutta la nostra penisola direi che per oggi è tutto un saluto da Ogonotaro per gli amici di La C Grazie a tutti Grazie a tutti